Vediamo quanti inentrano. Uno... Che schifo! Se è bloccato non puoi parlare. Come va Gabri? Buonissimo! È un incubo! Oddio! Oddio! Si sta finendo buonissimo questo lito, io lo sapevo! Stop pausa! Non lo so! 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 Adesso chiamo Stefano! No! Non chiamarlo! Non lo devo chiamare! Basta! Che cosa è questo casino? Chi stava strillando? Chi è che stava facendo questo macello? Adesso mica mi volete far credere che stavate immobili così spero! Non ci siamo mossi! Che cosa? È vero! Roma dimmi assolutamente quello che è successo! Chi è che stava facendo questo casino? Era il gatto! Scusa? Stava giocando con questo, lanciava i cuscini, un casino! Noi non abbiamo un gatto! Scusami eh! Il gatto della vicina! Il gatto? Della vicina! Quindi tu mi vuoi dire che il gatto della vicina ha fatto tutto questo disastro? Sì! Sentite, sentite! Marmocchi! Non mi ingannate! Siete stati voi! E allora sapete cosa ho deciso? Cosa faremo? Visto che non mi avete ascoltato e non avete fatto silenzio e non mi avete fatto riposare! Adesso sapete cosa facciamo? Un bel pausa challenge! Sì! Pausa challenge! Ehi ehi ehi! No 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 no! Forse avete capito male! Non sarà un pausa challenge semplice ma sarà un pausa challenge estremo! Cioè con cose pericolosissime! Ma voi sapete cos'è un pausa challenge? Un pausa challenge! Pausa! Quindi per 24 ore io vi riprenderò e in qualsiasi momento della giornata con il telecomando vi stopperò e voi subirete una penitenza! Pausa! Adesso vediamo chi si muove e chi si muove pagherà una penitenza! Sarà mettersi in bocca al 100 marshmallow! Ah no! Ah ah ah! 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 Bene Ilari! Dovrai pagare la tua penitenza! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ecco i marshmallow! I marshmallow sono buoni ma se ne mangi uno! Ma di 100 non 100! Bisogna mangiare uno per uno! No no no! Ah 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 ah! Vediamo quanti ne entrano! Uno! Due! 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 Tre! Di più! Di più! Di più! Di più! Andiamo! Tre! Vai! Oddio! Quattro! Cinque! 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 Ma Ilari ha vantaggiato perché non è dentro! Cinque marshmallow! Vediamo quanti! Vai Ilari! Ilari ha vantaggiato perché non è dentro! Cinque marshmallow! Vediamo quanti! Vai Ilari! Che schifo! Che schifezza! Che schifezza! Sì! Com'è andata? Questa prima? Ehi! No! Una penitenza ma è vero? Cosa? Solo una penitenza vero? Eh eh! Bisognerà vedere se in queste 24 ore qualcun altro pagherà la penitenza! Lo sapevo che tanto Ilari perdeva questa challenge! Eh scusami chi teneva Ilari in braccio? Bene! Il pausa challenge è male anche per te! Due! Vieni! Tre! Quattro! Che schifezza! Vieni! 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 Bene siamo a quattro! Cinque! Sei! Sei! Dieci! Bene ho perso il corto forse saranno circa 20-22 comunque è iniziata benissimo questa pausa challenge così vediamo se la prossima volta si impara a non fare casino dentro casa! Ilari! Vediamo un po' se sei questa invece 2 per 1 uguale! Adesso faccio merenda da sola perché tanto Ilari e Gabriele si servono dell'acqua quindi mangio tutta la pizza anche l'abbiamo fatta! Ecco qua! Gabriele! Ehi! Ehi! È arrivato il momento di vendicarmi adesso! Come? A tutti quanti! Adesso è il momento che aspettavo un bel velocino sopra la pizza sarà quello che... ... ahhh! no non ti salverai tu, sei bloccata, abbondiamo abbondiamo e anche a te, bene visto che questo è un pausa challenge quando vi sbloccherò tornerete a fare quello che stavate facendo prima a mangiare la pizza, quindi la ritornerà nella sua posizione, bene adesso che avete tutto peperoncino, vi sbloccherò e tornerete a fare quello che stavate facendo prima, com'è questa pizza ragazzi, com'è, sei viola, sei tutta viola in faccia, tieni tieni vuoi l'acqua, è vuota questa bottiglia, com'è, com'era, schifoso, come va Gabri, qualissimo, che c'hai là, è un incubo, vuoi continuare questo pausa challenge, te l'ho detto che era un pausa challenge stress, ho il fresco, io sì, voglio continuare, ma ce la fai, sei tutto bagnato Gabri, sei sicura, ma io non mi vado a fare la doccia, no vestito no, ma che fai? adesso con questa panna mi divertirò io, cominciando da te Hilary che sei bloccata, non ti puoi muovere bene, non parlare, se pare sei eliminato dal gioco, sei bloccato non puoi parlare, oddio, 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 no, 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 bene, bene, sei bloccata anche tu, non puoi parlare, sei bloccata, guarda, sei pausa, non ti puoi parlare, chi è stato, chi è stato, chi è stato, che cosa? bene, Borbetto, pensavi per tricare alla Franca, vero? bene, questo pausa estremo, a cazzo, bene, bene, buon appetito a sua Roma, buona merenda, si sta finendo tantissimo questo dito, io lo tropevo, com'è andata? Tutto bene? è buono, è buono? Bene, Capri adesso ti faccio vedere una cosa leggera, oh no, 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 ma pesa, cosa pesa? Ok, ok, levo questo ma tu sei bloccata, mia cara e adesso potrebbe succedere di tutto e io ho un'idea ce l'ho eh Stefano dimmi ho un'idea per vendicarmi di questi due bene quale idea hai? del ketchup bene 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 il primo a pagare benedetta sarà Gabriele che cosa? bene com'è quel ketchup? non può nemmeno parlare anzi apri la bocca apri la bocca com'è il ketchup? schifo proprio a te che fa schifo così ti impari la prossima volta a darmi la panna in faccia va bene marmocchio ehi Hilary la cara Hilary sarei proprio tu a essere piena di ketchup ovunque addio Hilary che schifo com'è? che schifo com'era? schifoso ma come a te piace il ketchup? se lo so tutte le parti no cosa? abbiamo seduto il cipollone un po' di coca cola scaduta no ma per favore dove sei? posso la coca cola? eccovi è è un po' di coca cola prima di me prima di me ok ehi qualcuno sta bevendo? è un bel pausa? questa coca cola sbaglio o sta continuando a scendere? no 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 sbaglio o questa cola sta continuando a scendere? non la berrete mai perchè sarà tutta quanta sul tavolo e piano piano andrà anche per terra no 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 cammica se non cade per terra ti sbagna pure a te ehi prima che ca... Hilary dovrà asciugare per terra mi sta cadendo per terra mi sta cadendo a specchiare tanto pulirei tu Roma no stop stop pausa scusate ma è tutta la coca cola per terra scusate scusate ma tutta questa coca cola per terra cioè abbiamo in salone pieno di coca cola ma state scherzando andiamo bene Adesso Roma pulirà tutto quanto Si comincia ad asciugare Grazie mille Volete ancora continuare questo pausa challenge? Si Bene allora non sapete ancora cosa vi aspetta Comunque ci ha dato tantissimi compiti Io non lo so Continuiamo Non lo so Non lo so Non ti prego Stai in pausa E non ti puoi muovere Un attimo scusami Francesca Non hai niente Francesca Stai in pausa non ti puoi muovere E sopra di te Qui c'è Hilary e Gabriele con un tubo di acqua Che? E si E stai in pausa quindi Al 3 2 1 Qui qualcuno ti sta fraccicando o sbaglio? E' da me 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 E' me spiace Roma Stai in pausa Dammi 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 E' Roma Sei ancora in pausa lo sai? Roma Vai vai Tanto in pausa Come va? Bellissimo E' cosa state facendo? La piastra è una piastra Eh scusami ma non è calda la piastra? Sì E quindi? No Stefano no Stefano no No Stefano no No Sì 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 Pausa Vediamo un po' se Fino a che non esce il fumo O a meno che non vi arrendete E sarete E sarete sconfitte da questo pausa challenge Vi arrendete? No Roma Roma tu ti arrendi? Sì basta 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 Ragazzi Secondo me Il periodo di oggi è stato più grande di sempre E' vero? Ma si saranno iscritti? Ma si saranno iscritti? Sì Ho delle questioni civili Cosa ti dicono? Chi si è iscritto adesso? Romana Romana? Amici abbiamo una notizia da darvi vero? Tra qualche giorno Quindi rimanete connessi E iscriviti al canale Uscirà una grandissima Fantastica sorpresa Per voi Non lo sveliamo Eeeh Io non lo svelerei Però questa volta ragazzi È veramente Lo sento Lo sento Lo sento Quindi amici Mi raccomando Rimanete connessi E ci vediamo domani Con un altro fantastico video Ciao ragazzi Ciao domani ragazzi Ciao 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 Ciao